Nonostante la diffida al prefetto e nonostante un pubblico numeroso arrivato a posta in comune per seguire il Consiglio, alla fine la tanto attesa commissione referendaria non è stata nominata. La maggioranza guidata da Angelo Sbrocca ha respinto la delibera che aveva presentato l'opposizione per individuare subito i nomi e ha votato invece l'emendamento presentato da Antonio Giuditta e che prevede che entro 30 giorni venga emanato un avviso pubblico che permetta a più professionisti di poter partecipare alla selezione per far parte della commissione. Alla fine è successo quello che già avevano annunciato i due comitati, partecipa Termoli e Termoli decide e il timore ora è che in assenza di tempi certi le cose vadano avanti per molto tempo e che tre il referendum per decidere sul tunnel, sull'ex cinema adriatico e sullo spostamento del tracciato ferroviario non si facciano. Succederà che finché non c'è questa commissione siamo congelati, non possiamo fare nulla perché è fondamentale per tutto lo sviluppo del percorso. Questa scelta di fatto ci sta impedendo di andare al referendum e questo è oggettivo. Finché non c'è la commissione non c'è il referendum. In aula ci sono stati molti interventi dei consiglieri, tra lo stesso pubblico più volte si sono alzate voci di protesta. I comitati avevano pronti già quattro nomi, tutti avvocati, ma l'opposizione era intenzionata a votare anche professionisti scelti dalla maggioranza pur di vedere costituita subito la commissione. Ma il centrosinistra è andato dritto sulla decisione iniziale. Secondo Michele Marone però è stata commessa un'illegittimità. Noi riteniamo che sia stato violato l'articolo 18 del referendum che prevede la nomina dei componenti della commissione referendaria. Perché nonostante noi consiglieri della minoranza avevamo già convocato il consiglio per tale adempimento con un emendamento che poi alla fine è stato votato dalla maggioranza, si sono andati ad allungare i tempi ma soprattutto sono andati a prevedere una modalità attualmente non prevista dal regolamento. Per cui noi riteniamo che questo emendamento addirittura era irricevibile perché posto che costituisce una modifica all'articolo 18 doveva essere fatto come proposta di delibera e non come emendamento. Il sindaco Angelo Sbrocca invece ha difeso la scelta dell'amministrazione parlando di strumentalizzazioni. Stiamo facendo il nostro dovere in relazione ad un istituto che non solo condividiamo ma che è stato e sarà uno strumento di partecipazione dei cittadini. Noi stiamo facendo tutto secondo il regolamento e secondo la legge. Quindi se qualcuno vuole strumentalizzare come si strumentalizza ogni cosa faccia pure ma i cittadini sono molto più intelligenti di chi vuole strumentalizzare.